Un'esperienza enorme nella fincia del lavoro e nella fincia del governo. Sei minuti di spot elettorale, adesso io però la devo richiamare a... Io sono venuto qui per fare spot elettorale, pensa che sia venuto qui per farne la corte? No, spero che lei, non lo so, me lo dica lei. No, sono venuto per fare spot elettorale. Ottimo, mi sento bene con me stessa. Mai stati così timidi nei tagli alla politica? Vedi che mi imbarazza e poi vado da un'altra parte. Tagli alla politica... Tagli alla politica, perché siete stati così timidi? Perché fare... Il Presidente Monti ha detto che bipartisan c'è stata una resistenza mostruosa. Le porto un esempio concreto così lei mi risponde. Lei ha detto perché era difficilissimo, insomma, convincere... Se lei riesce a far votare ai... A tagliarsi le poltrone, allora è più bravo Grillo di lei. No, 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 Grillo fa chiacchiera. No, no, a proposito di chiacchiera la voglio chiamare a questo. Aspetti. In Sicilia sono stati eletti, come lei sa, tantissimi deputati, si chiamano, insomma, consiglieri regionali... Che hanno, peraltro, il massimo degli monumenti e di stipendio previsti in Italia, proprio per una serie di autovotazioni che li hanno portati a questo tipo di accorgimento. Il Movimento 5 Stelle, dal scorso mese, quindi dopo il primo mese di stipendio, sta restituendo circa 130.000 euro al mese, perché rispetto ai 10.000 passa, più le spese, più i rimborsi che ciascun consigliere prende, loro si tengono solo, si fa per dire, 2.500 euro e restituiscono gli altri. Si impegna qui a restituire il finanziamento pubblico che riceverete per queste elezioni? Non riceveremo, credo, no, è certo, noi non spendiamo niente, non ha visto? Noi siamo già convinti di questo e lei non ha visto un solo manifesto del popolo della libertà. Ma lo restituirete quindi? Cioè, rispettano dei denari che non sono affatto pochi, che gridano scandalo anche a detta, insomma, nei paesi che ci guardano in questo senso? Io, dato l'impegno preso da tutti i nostri parlamentari, mi impegno a presentare nel primo mese in Parlamento una legge che abolisca il finanziamento pubblico. Ma questo se lo prenotete? Non solo i parlamentari, ma ha il numero, ma anche il numero dei consiglieri regionali e dei consiglieri comunali. Quindi io credo che si possa veramente dare uno stop alla politica fatta per mestiere, noi ne abbiamo dentro pochissimi, se no qualcuno, il Fiorito, era qualcuno che quando io ho fatto il popolo della libertà per mettere insieme tutti i movimenti nell'area dei moderati, e qualche partito è arrivato con il carico dei suoi vecchi mestieranti. E questi mestieranti sono quelli che abbiamo dovuto ereditare negli altri partiti, con Lusi, con Pisano, eccetera, hanno fatto purtroppo la stessa cosa. Quindi mi sta dicendo che però non lo restituirete questo finanziamento? No, le sto dicendo che noi probabilmente non dovremo restituirlo perché non lo riceveremo. Presidente, nel nostro Tg che segue questo appuntamento ci sarà la risposta al voting per capire se i telespettatori che ci stanno seguendo da tutta la giornata e stanno votando, e stanno votando tantissimo, credono alle sue ricette. Però premetterete onestamente, come si deve fare, che non è un sondaggio vero, perché riguarda soltanto gli simpatizzanti, quindi coloro che hanno i soldini per sottoscrivere l'abbonamento di Skype. Quindi dovrebbe essere a suo favore, in teoria. Vedremo come andrà a finire. Vedremo come andrà a finire, ma i sondaggi veri sono quelli che si possono fare andando in giro nelle strade in questi giorni. Brava, complimenti e sufficientemente cattiva. Grazie, noi ci ritroviamo mercoledì col Presidente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.